Sono a Castagno d'Andrea, davanti alla chiesa di San Martino. La chiesa vecchia era sul poggio, non lontano dall'attuale osservatorio astronomico. L'edificio fu costruito intorno a 1947, sul fedele disegno della precedente struttura. La facciata con bozze di pietra è preceduta da un loggiato a tre arcati. Sopra la porta d'ingresso è una lunetta con San Martino, dell'artista Guarnieri. Interno, spazioso e accogliente, è una navata unica, coperto da capiare. Sull'altare campeggia il grande crocifisso di Annigone, con al lato Giovanni Evangelista e la Madonna Dondale. L'allievo di Annigone Piscolesi, a completamento, realizza nel 2003, in solo i 15 giorni, nove figure, tutte rivolte verso il crocifisso. Spettatori di quel tragico evento sono mendicanti, poveri e marginati, raffigurati con grande dignità. Lui passava anche la linea gotea e una campana ricorda caduta. L'accoglienza e la cura a Castagno è davvero per tutti, anche per gli amici a quattro zanni. L'accoglienza e la cura a Castagno è davvero per tutti, anche per gli amici a quattro zanni.